Andiamo incontro a dei tempi limitati rispetto al ripristino della strada. Tra le tre e le quattro settimane, questo il tempo ipotizzato nel corso del tavolo di coordinamento per la riapertura della statale Alemania, chiusa dopo le frane di venerdì scorso, un incontro al quale hanno partecipato tutti gli enti coinvolti, Regione Veneto, Anas, Autostrade e Ferrovie dello Stato, oltre ai comuni di Vittorio Veneto e Alpago. Un tempo lungo, ma certo molto meno di quanto si era ipotizzato nell'immediatezza dell'enorme colata di sassi e fango. La linea ferroviaria è stata riaperta stamane, anche se ci sono stati ancora dei ritardi nei collegamenti da e per il bellunese. Rimangono i disagi per gli abitanti di Fadalto, costretti a prendere l'autostrada e pagare il pedaggio, oltre che subire gli effetti del traffico nei fine settimana. Io ho riportato appunto i disagi che stanno vivendo i cittadini del Fadalto rispetto al loro obbligo di prendere l'autostrada ogni giorno e su questo noi come amministrazione ci impegneremo in quanto prima a vedere un regolamento, un iter che ci possa portare a quantomeno un rimborso, un ristoro delle spese che i cittadini del Fadalto stanno affrontando nel prendere l'autostrada. Nell'incontro si è parlato anche del maxiprogetto da 40 milioni di euro per la costruzione di gallerie paramassi che dovrebbero mettere in sicurezza definitivamente l'Alemagna. Un intervento che ANAS farà nei prossimi anni di sistemazione di gallerie paramassi e quindi voglio dire che l'Alemagna sarà messa in sicurezza grazie a un maxi intervento da parte di ANAS. Nel frattempo si sta ipotizzando un meccanismo risarcitorio per i residenti, visto che purtroppo gli smottamenti continueranno a ripetersi finché non verrà realizzato un intervento risolutivo. L'assessore e vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, ha garantito l'impegno di trovare con il MIT di concessionari autostradali soluzioni alternative per attivare in modo rapido l'esenzione dal pedaggio o il ristoro dei costi.